Quest'anno abbiamo colonizzato un'altra parte importante della città, il Pincio rinnovato e questo è lo spazio che ospiterà la rassegna fuori passaggi e le graphic novel che partiranno giovedì 27 giugno. L'idea era appunto quella di creare un contenitore giovane che potesse ospitare dei contenuti che interessavano proprio a un pubblico più giovane, quindi i social network, i nuovi fenomeni dei social, quindi youtubers, influencers eccetera eccetera e poi l'incontro tra il libro e la musica. Partiremo il primo giorno giovedì 27 con la presentazione del progetto 20 di Sofia Viscardi e la sua manager Irene Graziosi, alle 23 presenteremo il libro di Matteo Bibianchi e i Camillas e venerdì poi procederemo con l'intervista a Casa Surace. Poi avremo l'ospite, un grande ospite che è Lele Sacchi che è un DJ, un producer a livello nazionale ma anche a livello mondiale nonché conduttore radiofonico di Rai Radio 2. Poi sabato avremo un altro fenomeno social che è questo Gordon che praticamente fa delle parodie su cosa significa essere donne. E poi avremo un altro bellissimo incontro che è quello tra Giulia Cavalieri e Dente, cantautore importantissimo sulla scena italiana, tranno insieme le parole e le note e ci sarà anche un'esibizione live di Dente. L'ultimo giorno avremo Frankie I Energy che presenterà il suo libro e ci parlerà del rap e tutta la sua storia, uno dei rapper più conosciuti e più apprezzati sul panorama italiano e non. E poi finiremo con la performance dei ragazzi dello Stato Sociale. Lo spazio poi del Pincio sarà impreziosito dalle scenografie della scuola d'arte sotto la direzione del prof Giorgio Cassoni che ci tengo a ringraziare personalmente. Quest'anno presenteremo otto graphic novel, ci sono degli autori di tutto rilievo perché abbiamo Vittorio Giardino, diciamo così per l'Italia ma è conosciuto e tradotto in tutto il mondo, abbiamo José Munoz dall'Argentina, Paolo Baciglieri lo stesso, un personaggio, un autore molto conosciuto. Abbiamo però anche dei giovani, la Badessa, abbiamo Cristina Portolano e Iole Signorelli che presentano un lavoro collettivo su una graphic novel che riguarda le questioni di genere. Abbiamo Lorenzo Ghetti e poi il rettore della Università di Camerino che farà una presentazione dal titolo La Scienza a Fumetti.